... Dateci un po' di copertura, se questo elicottero spera altri danni saremo nei guai. E' uno degli ufficiali di fraccia, elicottero. E' uno degli ufficiali di fraccia, elicottero. Mi hai ucciso un altro, continua così. Ho una ID su di lui. Videkissato. Teresa sta intercettando le loro comunicazioni radio, quella è l'ultimo ufficiale in strada, gli altri sono all'interno. Ecco Matsuo, porta a termine il tuo ordine di eliminazione. Devo lasciare che Matsuo scappi. Celentini di Uzo! Zing! Odore! Tommelo! Tommelo! Tommelo è Ryusaki! Tommelo è Ryusaki! Tommelo! Questa dovrebbe essere possibile accedere ai piani superiori. Tommelo è Ryusaki! Tommelo è. Sì! Sì, ci sono altri due a questo. Perchè! Uno degli ufficiali di Murakawa si trova su questo piano Ne mancano ancora tre Quello è il nastro della telecamera nascosta della sorveglianza di Murakawa Speriamo che contenga qualcosa di utile Mi sono infiltrata nelle loro comunicazioni radio C'è un ufficiale su questo piano Ho una ID su di lui Ancora due Yataro Tanaka Ripresci questo piano e assicurati di eliminare tutti gli ufficiali di Murakawa che incontri Ne manca solo uno Ho una ID su di lui Yatoshi Edo Questo è l'ultimo Bella Ho una ID su di lui Takeshi Mori Ho una ID su di lui 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 Lo due Ho una ID su di lui Ho una ID su Crowe Ho una ID su Ho una ID su efficacia Ho una ID su récupgravi Ho una ID su Hanno questo è il centro delle informazioni trova il terminale principale e inizia a scaricare le informazioni quando lavoravo sotto copertura ho capito che in qualche modo Murakawa era coinvolto con i nordcoreani sono sicura che i file sul suo computer contengono una lista di tutte le transazioni tra la Yakuza e Yon Yun Kim ricorda devi prendere il controllo del tetto o non possiamo recuperarti 殺ere! Grazie a tutti. 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 Cerchiamo di concludere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.